Bergamo ha fatto della strategia soprattutto per quanto riguarda la transizione climatica una delle obiettivi più importanti da qui al 2030. Sono più di 261 azioni, 41 enti, un partner fondamentale per noi e A2A, insieme a tutte le azioni che sono incluse dall'implementazione del teleriscaldamento, all'elettrificazione, a quello che riguardano gli impianti e i nostri impianti pubblici, i nostri edifici, insomma una serie di azioni che ci permettono di raggiungere quell'obiettivo molto ambizioso e che non possiamo mancare della riduzione di 460.000 tonnellate da qui al 2030 di CO2. Tutto quello che noi compiamo dai progetti di riqualificazione urbana, dall'implementazione nei confronti del teleriscaldamento per raggiungere sempre di più cittadini e abitazioni, l'ultimo progetto ne ha incrementati di altri 11.000, la possibilità di avere soprattutto una mobilità sostenibile che è l'altra strategia fondamentale che noi abbiamo già in corso di realizzazione, penso alla Stazione Europea, penso alla IBRT, piuttosto che la T2 che è la tranvia delle valli, ma non solo, penso invece ai processi di riforestazione urbana e soprattutto a fare in modo di diminuire le zone di calore. Tutto concorre a fare in modo che quel raggiungimento e quell'obiettivo sia centrato e soprattutto diventi un progetto collettivo della città, delle imprese e dei partner come quelli di A2A.